Ischia e il teatro è sempre più radicato nella cultura anche dei ragazzi, l'attività teatrale, questo grazie ai laboratori che si tengono al liceo già da parecchi anni, condotti dal regista Salvatore Runga. Tra l'altro i ragazzi del liceo hanno vinto molti premi, come sappiamo, e hanno portato in scena qualche giorno fa un bello spettacolo. Sì, abbiamo concluso questo laboratorio del 2016-2017 con la rappresentazione delle donne al Parlamento di Aristofane, che è un testo molto famoso, devo dire che offre anche molti spunti per quello che riguarda l'attualità sulla crisi della democrazia, del potere, sul governo, su un possibile governo delle donne. È stata una bellissima serata, i ragazzi sono stati davvero molto bravi, anche molto efficienti. Una piccola amarezza, perché con alcuni di loro è un percorso che si interrompe, perché dopo i cinque anni di scuola il laboratorio è esclusivamente destinato agli alunni, ai partecipanti al liceo. Altra piccola amarezza è che quest'anno non possiamo partecipare al festival del teatro scolastico di Cesena, perché il regolamento vuole che la scuola che vince l'anno successivo non può candidarsi. Vabbè, risparmierete l'energia per l'anno prossimo. Intanto c'è un altro laboratorio, sempre per ragazzi, che è quello dell'Associazione Luca Brandi. Come sta andando? Il laboratorio dell'Associazione Luca Brandi sta andando bene. Abbiamo una bella partecipazione per quello che riguarda gli istituti superiori, anche se c'è questo problema dei doppi turni che naturalmente ci impone la necessità di adattarci. Metteremo in scena una raccolta di poesie, che è la verità, vi prego, sull'amore di Winston Jung, Oden. C'è anche un aggancio con Ischia, visto che Oden è stato a Ischia per tanti anni, ha anche scritto delle belle poesie, delle belle liriche. I corsi si svolgono il sabato pomeriggio alle 18.30, quindi faccio anche un po' di pubblicità. E poi abbiamo anche dei corsi destinati ai ragazzi delle scuole medie, sempre il sabato, e alle scuole elementari dalla terza in poi. Mentre invece per il liceo è stato deciso il tema che affronteremo quest'anno. E affronteremo invece il mito di Medea, con una particolare rilettura che tiene conto anche, non soltanto del testo di Euripide, ma che tiene conto anche di quella che è la figura archetipica di Medea, anche per come Euripide poi ce l'ha consegnata. Quando potremo vedere questo spettacolo? Io spero intorno al mese, fine aprile e inizio maggio. Diciamo che l'avventura incomincia nelle prossime settimane.